Arriva questo Quasi Amici, dicevamo prima con il tuo collega che ha preso molto dal film, però si arricchisce anche della storia che ovviamente ha come protagonisti due straordinari attori italiani. Voi ci mettete del vostro in questo Quasi Amici? Guarda, innanzitutto, al di là del fatto che poi un film è un film, è uno spettacolo teatrano, dico una cosa banale ma va ricordato, quando poi trasferisci dal cinema in teatro viceversa c'è sempre un tradimento che devi fare, che è giusto che sia così, perché sono due linguaggi completamente diversi quindi hanno anche delle esigenze diverse. In questo caso qui c'è un terzo tradimento che è quello che appunto Driss, il personaggio che fa Paolo, non è un uomo di colore. Quanto c'è del film in questa piesta teatrale che interpretate te Massimo? Tutto, c'è tutto, anzi forse speriamo ci sia qualcosa anche di più, nel senso che ovviamente il cinema è un altro linguaggio, il teatro ha una ristrettezza all'interno del tempo e dello spazio, però io credo che sia un bellissimo adattamento che ha fatto Alberto Ferrari, sono molto felice, certo sono delle differenze, insomma io già come vedete Sei un po' diverso, sì Un po' diverso, diciamo sono un po' più pallido del protagonista L'occhio celeste, insomma Però sono Livornese E questo già è... Il Livornese vuol dire essere già praticamente nero, praticamente sì, è uguale, insomma Io mi sento uguale, come lui, sono nero anch'io, vedi?